Musica Benvenuti al consueto appuntamento con sette giorni di cronaca sanità colpo di coda di frattura ha disposto l'integrale trasferimento dell'ospedale Cardarelli all'interno della fondazione Giovanni Paolo II sentiamo Pasquale Di Bello Come il gatto di Alice nel Paese delle Meraviglie Paolo Di Laura Frattura esce dalla porta e rientra dalla finestra Parliamo di sanità e del recente decreto numero 46 emesso dal commissario ad acta in data 26 aprile 2018 ovvero ad elezioni regionali ampiamente celebrate e con uno sfratto esecutivo in corso Frattura ha approvato il programma degli investimenti sanitari che riguarderà l'intera rete regionale un impegno massiccio di risorse pubbliche pari a 105 milioni di euro di cui 100 a carico dello Stato e 5 a carico della Regione L'ex inquilino di Via Genova potrà obiettare di essere ancora lui il commissario per la sanità ma essendo se non certa altamente probabile la sua sostituzione con il nuovo presidente Toma sarebbe stato opportuno attendere l'insediamento del nuovo padrone di casa prima di accendere il disco verde ad un programma di investimenti che andrà a stravolgere l'attuale assetto delle strutture sanitarie intervenendo su temi che hanno infiammato il dibattito pubblico ad esempio il processo di integrazione tra l'ospedale Cardarelli di Campobasso e la fondazione Giovanni Paolo II, meglio conosciuta come Ex Cattolica un investimento stimato dallo stesso decreto commissariale in 40 milioni di euro di questi 22 saranno a carico dello Stato e uno a carico della Regione e già qui cominciano le domande all'appello mancano 17 milioni di euro non certo Bruscolini ed è legittimo chiedersi da dove e come verranno procurati questa mole massiccia di denaro ed è questo il cuore della notizia servirà ad adeguare i locali della Ex Cattolica per accogliere il trasferimento integrale del Cardarelli in questo modo, scrive Frattura, sarà possibile il trasferimento di tutte le attività del presidio Cardarelli all'interno della struttura Giovanni Paolo II la proposta di integrazione prosegue Frattura prevede la ristrutturazione di alcuni corpi di fabbrica ceduti all'ASREM in diritto di superficie dall'Università Cattolica del Sacro Cuore e la costruzione di nuove strutture su lotti di terreni acquistati dall'ASREM sul tema si pone un interrogativo di ordine giuridico e di prospettiva posto che con soldi pubblici verranno realizzati interventi su una struttura privata cosa accadrà qualora la Ex Cattolica decidesse di lasciare il Molise e trasferire altrove la propria attività? il diritto di superficie non è certo quello di proprietà e allora in quel caso toccherebbe riacquistare al pubblico i locali dal privato già costruiti e ristrutturati con fondi della collettività a rendere ancora più evidente il processo di smantellamento del Cardarelli e quindi dell'ospedale pubblico c'è poi un altro aspetto il trasferimento non solo strutturale ma funzionale presso la fondazione dei reparti di oncologia e chirurgia di quello che da oggi possiamo già chiamare purtroppo ex Cardarelli Parliamo adesso della carrese di San Martino in Pensilis che è stata bloccata ci sono stati attimi concitati dopo il sì della commissione c'è stato praticamente il capovolgimento della decisione con la prefettura che ha disposto l'annullamento della carrese ci sono state anche tensioni in seguito anche il sindaco di Ururi ha deciso di non far correre la carrese nel suo paese ma sentiamo Manuela Iorio il giorno dopo l'annullamento della carrese a San Martino il caos il sindaco Massimo Caravatta si è dimesso una protesta la sua contro la prefettura che per ben due volte nel giro di pochi giorni ha negato la corsa dei carri la manifestazione che rappresenta l'anima di San Martino una comunità che ieri è stata tenuta con il fiato sospeso per un'intera giornata in un'altalena di emozioni in ordine ansia, tensione, speranza, gioia e poi angoscia il verdetto della commissione di vigilanza sul percorso è arrivato nel pomeriggio si può accorrere questa l'affermazione che ha fatto subito il giro del paese che si è diffusa di bocca in bocca ma poi la nuova ordinanza della prefettura che vieta nuovamente la corsa perché i pareri della commissione non sono unanimi su otto membri sei hanno dato l'ok due invece parere contrario una decisione che ha gettato nell'angoscia e nello sconforto le migliaia di persone arrivate in paese per seguire la corsa hanno capito che non si correva più quando le camionette di polizia e carabinieri si sono messe di traverso sul percorso è stato un sopruso ha commentato a caldo ieri il sindaco oggi a bocce ferme Massimo Caravatta si dimette e annuncia ricorsi e richiesta risarcimento danni a tutti i soggetti coinvolti in primis la prefettura l'ex sindaco che ha 20 giorni di tempo per ripensarci ritiene di non aver fatto nessun errore non abbiamo improvvisato dice e nella sua lettera indirizzata al consiglio comunale alla prefettura scrive con la serenità e la coscienza di chi si è speso senza risparmiare energia e fatica a difesa della comunità di San Martino del suo territorio e della sua cultura comunico le mie dimissioni una decisione arrivata al culmine di notti insonni per Caravatta che nei giorni scorsi si era detto angosciato solo all'idea che non si potesse correre non c'è scritto da nessuna parte che il parere della commissione doveva essere unanime la norma è chiara bastava la maggioranza ha commentato Caravatta spiegando che la commissione prima non si sarebbe potuta convocare in quanto il percorso con tutte le misure di sicurezza adottate e pronto proprio al ridosso della manifestazione misure per la salvaguardia dell'incolumità delle persone durante le manifestazioni pubbliche che sono diventate sempre più stringenti dopo i fatti di Torino quando in occasione della finale di Champions in piazza San Carlo rimasero ferite oltre 1500 persone e una donna morì misure per certi versi anche incompatibili per un evento come la corsa dei carri che non si svolge nel chiuso di una piazza se a San Martino è il giorno della resa dei conti a Ururi altro centro in fermento è l'ora delle decisioni il sindaco Raffaele Primiani ammettendo le stesse criticità di San Martino ha deciso insieme alle associazioni dei carri di annullare la gara del 3 maggio onde evitare una farsa e un'ulteriore umiliazione della nostra tradizione millenaria ha affermato resta l'incognita ora della corsa di Porto Cannone con la paura di tutti che una tradizione secolare come la carrese possa essere cancellata sentiamo invece cosa ha detto il prefetto di Campobasso Maria Guia Federico proprio in merito al blocco della carrese di San Martino in Penzils l'abbiamo intervistata a prescindere dalla circostanza che non erano stati messi in atto i presupposti richiesti dalla sentenza del Tar cioè la commissione non aveva espresso un parere unanime favorevole ma vi erano stati dei pareri favorevoli e dei pareri contrari e i pareri contrari erano proprio quelli che riguardavano la sicurezza del percorso e l'incolumità delle persone ecco adesso però la comunità è ovviamente amareggiata perché si tratta di una tradizione millenaria una tradizione che si è sempre svolta come ho detto a chi me l'ha chiesto il prefetto non vuole abolire la tradizione il prefetto non è contro la cittadinanza il prefetto non è contro le tradizioni sarebbe un non senso io sono il prefetto di Campobasso io lavoro in Molise e ho il dovere di rispettare il Molise e le sue tradizioni quello che dico che tutte le tradizioni ormai vanno ricondotte in un ambito di legalità e di rispetto delle norme di sicurezza che ahimè essendo noi uno stato di diritto leggi stringenti ci impongono ecco adesso quali saranno i prossimi passi? voglio ricordare e così concludo che è necessario sapere che rispetto all'anno scorso è stata emanata una circolare da parte del capo della polizia e da parte del capo di gabinetto del ministro che richiama sia i sindaci che i prefetti ad un'attenzione determinata e importante e li richiama al rispetto delle rispettive competenze ad una stretta applicazione di norme che riguardano la safety per quanto riguarda i sindaci e la security per quanto riguarda il prefetto i fatti di Torino hanno insegnato a tutti che non si può andare avanti col pressappochismo ma bisogna rispettare la legge e le norme di sicurezza per le prossime carresi per le prossime carresi è una proposta che ho lanciato in una telefonata al presidente della regione io sono disponibile lavoriamo insieme la tradizione deve essere mantenuta lavoriamo insieme per renderla sicura primo maggio festa del lavoro sono state consegnate le stelle al merito del lavoro in prefettura a Campobasso sentiamo 5 stelle al merito del lavoro quelle consegnate in prefettura a Campobasso in occasione del primo maggio della festa dei lavoratori cerimonia la presenza delle autorità nel salone d'onore di palazzo di governo a fare gli onori di casa il prefetto Maria Guia Federico che sui temi del lavoro ha ribadito impegno costante ascolto e sinergia con le istituzioni insegniti dell'onorificenza per particolari benemerenze acquisite nel corso dell'attività lavorativa Anna Dentizzi di Campobasso dipendente di poste italiane e Maria Luigia Di Bianco di Vinchiaturo lavoratrice di Immobiliare Harlem SRL bisogna lottare per crescere e per credere in determinati valori per me questa è la cosa essenziale se uno non lotta non riesce a ottenere nulla nella vita sono stata premiata forse proprio per la mia costanza e la mia dedizione al lavoro il lavoro premia questo è il messaggio grazie sì sì a volte premia quando ci si impegna con costanza premia sì sicuramente riconoscimento anche ad Antonio Palazzo di Termoli dell'ANAS Molise penso che questo premio vada e poteva essere consegnato a tutti i dipendenti dell'ANAS perché quotidianamente svolgono un lavoro che permettono di far sì che i cittadini possano tranquillamente transitare lungo le strade e così controllate in modo tale che non possano succedere gli incidenti stella al merito del lavoro anche a Fernando venditelli di Campobasso della ditta Iannetta Angelo SRL e a Franca Zarrelli di Ferrazzano dipendente del servizio elettrico nazionale SPA sicuramente il pensiero mio particolare in questo momento va appunto a queste persone che magari non ce l'hanno il lavoro ma in particolar modo va a chi mi ha preceduto la mia famiglia a mio padre soprattutto che sicuramente non ha avuto nessun tipo di premio nato negli anni 20 e tra le due guerre di premi loro non ne hanno avuti il motivo per cui io sono qui non è un caso è frutto del suo lavoro sicuramente io credo che il lavoro sia importantissimo sia perché dando l'indipendenza economica determina l'indipendenza politica ma è anche il mezzo per esprimere se stessi e rendersi utili alla società in cui si vive bisogna perseverare perché prima o poi le cose cambieranno per chi oggi non ce l'ha il lavoro e per chi ce l'ha ci saranno tante possibilità la vita riserva sempre belle cose in occasione del primo maggio questo è il messaggio del neo governatore Toma in attesa della proclamazione oggi festeggiamo e premiamo quelle persone di quella generazione in cui era più facile trovare lavoro premiamo la dedizione a quel lavoro e la dignità e l'onore con cui hanno portato avanti il loro lavoro ed è giusto che queste persone vadano premiate e ossequiate e però io vorrei che in questo momento in cui il lavoro manca e sta agli organi politici trovare delle soluzioni perché arrivino le imprese e perché creino di conseguenza lavoro vorrei che oggi sia visto almeno io così lo vedo come un punto di partenza per una nuova musica anche in regione Molise sarà una donna a sostituire l'assessore alla cultura del comune di Campobasso dopo le dimissioni di Emma De Capoa sentiamo Giovanni Di Tota ha voluto precisare non ho mai detto di lasciare l'assessorato per mancanza di fondi Emma De Capoa assessore dimissionario del comune di Campobasso ha messo nero su bianco nella lettera in cui annuncia di lasciare l'incarico dopo aver preso atto con profondo rammarico ha scritto testualmente dell'impossibilità di proseguire il lavoro avviato quattro anni fa quattro anni intensi ha aggiunto De Capoa di lavoro svolto con passione e determinazione non senza difficoltà ha spiegato poi il ringraziamento ai collaboratori più stretti e ai funzionari di Palazzo San Giorgio dimissioni irrevocabili e senza vena polemica ha voluto sottolineare De Capoa delle quali il sindaco Battista ha subito preso atto e dopo aver ringraziato a sua volta l'ex assessore per il lavoro svolto ha lasciato intendere che la sostituzione sarà immediata il compito verrà affidato a una donna espressione di quella sinistra che per quanto ben rappresentata in consiglio deve avere altrettanta visibilità in giunta Battista non ha ancora fatto nomi per quanto sul web e nei rumors circolino ipotesi piuttosto fantasiose ma ha tracciato un profilo preciso di quello che dovrà essere un punto fermo per l'anno che manca alla fine della legislatura ma anche una persona ha precisato con cui avviare un progetto più ampio anche in vista del prossimo appuntamento elettorale chi arriverà ha poi aggiunto Battista troverà un programma già piuttosto definito il sindaco ha comunque glissato sulle ragioni che hanno provocato il cortocircuito ed evitato di inasprire i toni nessuna modifica all'assetto istituzionale De Capua era assessore esterno la giunta ha confermato il sindaco resterà a nove mi dimetto il congedo dell'assessore nella consapevolezza di aver svolto il ruolo in modo corretto trasparente e disinteressato avendo come obiettivo il benessere comune qualcosa le ha impedito di portarlo a termine la cronaca adesso sono stati identificati e arrestati dai carabinieri gli autori della rapina a mano armata messa a segno l'estate scorsa in una banca di Venafro sentiamo Sergio Di Vincenzo armati di pistola alla fine di agosto avevano fatto irruzione nella filiale di Venafro della banca San Paolo intesa uno degli impiegati fu colpito al volto gli altri furono immobilizzati scapparono con un bottino di 5.000 euro ma durante la fuga commisero degli errori che hanno permesso ai carabinieri di rintracciare e arrestare gli autori della rapina su richiesta del sostituto procuratore Marco Gaeta il GIP del Tribunale di Sernia Vera Iaselli ha disposto gli ordini di carcerazione nei confronti di Salvatore Esposito 50 anni e del quarantenne Massimiliano Murolo per il complice Pasquale Papa 40 anni anche lui originario di Napoli è stata applicata la misura degli arresti domiciliari uno dei veri e propri professionisti della rapina basti pensare che uno dei tre era evaso quel giorno dagli arresti domiciliari proprio per commettere la rapina e basti considerare che uno dei tre era stato condannato già per 12 volte ma anche gli altri due sono gravati da precedenti penali specifici quindi si trattava di soggetti molto pericolosi armati di pistola che hanno consumato anche un sequestro di persona in quanto hanno chiuso nella banca clienti ed impiegati l'immediatezza dell'intervento ha permesso ai carabinieri di dare una svolta alle indagini riuscendo non solo a individuare lo scooter usato per la fuga ma anche a trovare un cellulare smarrito da uno dei rapinatori a Napoli si procurano con 20 euro questi telefonini sono dedicati a quel reato e poi se ci si sbarazza per nostra fortuna il telefonino era stato utilizzato con altre sim card e in questo caso i rapinatori avevano fatto degli errori sono bastati questi piccoli errori per portarci agli altri soggetti poi è stato difficile perché era tutto un gioco di sim di telefonini intestati a estracomunitari quindi abbiamo dovuto analizzare il traffico telefonico per risalire poi ai reali utilizzatori in questa indagine un ruolo importante è stato giocato anche dai cittadini la loro collaborazione è stato detto si è rivelata decisiva questa indagine ha avuto una svolta molto importante anche a seguito delle segnalazioni che abbiamo ricevuto dai cittadini che hanno assistito a quello che stava accadendo all'esterno della banca e quindi ci hanno potuto dare indicazioni utili per poi svolgere le indagini quello che voglio sottolineare è quando c'è sinergia tra forze dell'ordine e la cittadinanza i risultati si conseguono in tempi più celeri e con risultanze più concrete spostiamoci adesso a Campobasso e vediamo nei dettagli in cosa consiste la zona franca urbana e quali le agevolazioni per Campobasso dettagli che sono stati illustrati in una conferenza stampa a Palazzo San Giorgio c'era per noi Anna Maria Di Matteo l'occasione di quelle che vanno prese al volo l'opportunità si chiama zona franca urbana provvedimento del governo per combattere il disagio economico e sociale il comune di Campobasso potrà usufruire di importanti benefici previsti appunto dalla zona franca urbana i dettagli sono stati illustrati nella conferenza stampa organizzata a Palazzo San Giorgio alla quale hanno preso parte tra gli altri il sindaco Battista e il presidente della commissione consigliare Lello Bucci la soddisfazione tra gli amministratori di Palazzo San Giorgio e alle stelle Assessore è un'opportunità da non perdere per la città di Campobasso intanto può dirci che qual è la perimetrazione quali sono le zone interessate si ha detto bene le zone perché la perimetrazione in realtà raccoglie le tre zone del centro storico nel senso puro e storico del termine una buona parte del quartiere CEP una bella zona di via 24 Maggio e una parte che si affaccia su via 4 Novembre Sant'Antonio di Lazzari e la parte del quartiere di Monte Grappa che sappiamo essere una zona da tenere particolarmente attenzionata quindi queste sono le tre zone individuate allora che anche oggi sono zone che chiedono interventi del genere cosa prevede quali sono gli sgravi insomma i benefici previsti da questo provvedimento i benefici di cui sia le piccole e medie imprese che gli studi di professionisti possono di cui possono fare richiesta riguardano l'imposta sui redditi l'IRAP l'IMU e soprattutto i contributi per il lavoro dipendente sono misure che sicuramente danno un bel alleggerimento al costo del lavoro al costo attivo di un'impresa piccola o media che sia cosa bisogna fare per poter beneficiare come ci si deve muovere dal punto di vista burocratico siamo proprio a ridosso della scadenza da domani 4 maggio al 23 maggio dalle ore 12 di domani alle ore 12 del 23 sarà aperta la finestra sul Mise sul sito del Mise che è linkato dal sito del nostro comune la domanda sarà presentabile soltanto online occorrerà la firma digitale occorrerà allegare alla domanda l'attestazione del comune cosa che così non comporterà il controllo da parte del Mise l'attestazione della reale ubicazione dello studio di professionista o dell'impresa in zona franca urbana quante risorse sono a disposizione? in tutto per la città di Campobasso la buona notizia ci è stata portata il 24 dai funzionari del Mise in tutto ad oggi possiamo contare su 5 milioni e 700 mila da non escludere la possibilità ci siamo già attivati in questo senso di chiedere all'ente regionale poi di intervenire sulle stesse zone con misure aggiuntive buone notizie per gli automobilisti che si erano visti arrivare in giunzioni di pagamento per il bollo auto per gli anni dal 2008 al 2011 la regione molise ha accolto i ricorsi e stabilito la prescrizione sentiamo Marta Martino per i molistani che si erano visti arrivare in giunzioni di pagamento per il bollo auto per gli anni 2008 2009 2010 e 2011 finalmente arrivano buone notizie la regione molise con delibera del 20 aprile 2018 ha accolto la teoria della prescrizione triennale della tassa automobilistica soddisfatto l'avvocato Guido Rossi che ha assistito molti dei ricorrenti il 20 aprile la regione molise ha emesso una delibera all'interno della quale ha accolto ha disposto l'accoglimento di tutti quanti i ricorsi che sono stati presentati da 3.000 contribuenti molisani a fronte delle 31.000 ingiunzioni circa che sono state emesse dall'agenzia di riscossione di Cacrae 7SRL quindi allo stato attuale delle cose ci sono persone che hanno ricorso quindi ci sono dei ricorrenti e altri invece che non hanno presentato il ricorso quindi che cosa cambia adesso? Allora per quanto riguarda le persone che hanno presentato ricorso ricorso reclamo in sostanza abbiamo vinto perché abbiamo avuto l'accoglimento abbiamo avuto ragione in relazione a due principi di diritto importanti che sono la sostenibilità della pretesa e l'economicità dell'amministrazione e dell'azione amministrativa per chi quindi ha proposto ricorso c'è stato l'accoglimento quindi nessuno non bisogna pagare nulla per quanto riguarda invece le persone che hanno pagato per timore una piccola strada in realtà per ottenere il rimborso di quanto in realtà non avrebbero dovuto versare c'è e questo ce lo dice lo statuto del contribuente all'articolo 8 cioè quando viene accertata in sostanza l'illegittimità della pretesa l'amministrazione finanziaria è tenuta al rimborso quindi una possibilità per poter ottenere il rimborso di quanto versato ingiustamente ci sarebbe ci sono delle scadenze di termini? su questo no nel senso che rispetto al deposito del ricorso la presentazione del ricorso reclamo non abbiamo dei termini perentori cioè termini entro e non oltre i quali bisogna in sostanza chiedere rimborso o presentare il ricorso stesso è una strada che è alternativa e che è possibile sostanzialmente tentare al fine di ottenere quanto in realtà non avremmo dovuto pagare quelli che non hanno impugnato cosa devono fare adesso? per i contribuenti che non hanno impugnato in realtà dispiace però un'eventuale strada per un'eventuale istanza in autotutela è possibile tentare in realtà questa strada richiamando la delibera della giunta regionale del 20 aprile e richiamando poi il principio di diritto della prescrizione quindi si potrebbe tentare questa strada anche se i termini poi oggettivamente questo non possiamo negarlo sono ovviamente trascorsi e sono passati appunto è tutto termina qui anche questo appuntamento con 7 giorni di cronaca grazie per averci seguito e arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti